Ciao ragazzi, complimenti, webinar molto interessante, è da prima della pandemia che penso di erogare l'azienda sfruttando internet, ma mi ha sempre frenato la paura di essere richiamata dall'ordine dei dentisti, è successo a mio collega, non ridere Umberto, è successo a mio collega, è dovuto interrompere le attività online, avete esperienza in questo campo? Umberto ride perché sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ne ho io, ne ha lui, ed è proprio una questione infida e fetida. Prima di parlare dell'ordine dei dentisti, Enrico, devo fare due chiacchiere con l'avvocato. È vero, vuoi spengare la registrazione e facciamo tutti gli insulti. Posso dire che ho parlato direttamente con l'ordine dei dentisti, di una certa regione. Sì, ma è un casino, è un casino perché le regole ci sono e ti permettono di fare una buonissima pubblicità, il problema sono i tuoi colleghi, guarda voglio essere schietto, sono i tuoi colleghi dentisti che non fanno una buona pubblicità online, non fanno comunicazione online, quando vedono che la fai tu, segnalano la cosa all'ordine e l'ordine per non avere rotture di balle ti richiama a te e dice non lo fare più. In realtà si può fare, abbiamo casi di successo che conosciamo e che abbiamo fatto, si può fare, ci vogliono due cose per farla bene. Una, conoscere bene le regole, due, applicare bene le regole. Sembra semplice? Non lo è, perché interviene un terzo punto, reggere alle rotture di palle, scusate, non so come dirla meglio. Se tu una cosa la puoi fare, ti dicono sì la puoi fare, ma è meglio se non la fai, falla lo stesso. Allora, un imprenditore o imprenditrice deve imparare a gestire lo stress. Ed è una cosa importante, nel senso la crescita porta stress, punto. Non esiste una crescita che non porti stress. Se non sei disposto o disposta a gestire uno stress per crescere, allora non fare impresa. Capisci? Cioè, ne sono nate tante di aziende, semplicemente perché sì, perché posso farlo. E me ne rendo conto, perché ne ho conosciute tante, che poi si trova a dire, ma sto facendo fatica a fare impresa. E grazie al piffero non hai la voglia di gestire. Cioè, crescere ti porterà dello stress, ti porterà delle beghe. La soddisfazione sarà la professionalità, la tua impresa che cresce. Cioè, se questo ti va bene, ok, si può crescere. E si trova il modo, perché si può pubblicizzare direttamente, ma anche indirettamente. Buttolamo così, ma possiamo fare sponsorizzate che direttamente vendono quello che vendi, ma anche che indirettamente lo fanno. Ci sono sponsorizzate che parlano di cannabis, ok, legale. Che vendono olio e cose. Sarebbe illegale, ma se lo fai indirettamente non è più illegale. Le regole dell'ordine dei dentisti sono molto chiare, Laura. Sono chiarissime. Applicarle non è difficile. La parte difficile è che quando tu fai un ottimo lavoro online, qualcuno si incazza. Vedi, la settimana scorsa ero a Roma, stavamo girando degli spot per un cliente. E io gli ho detto, sei pronto? Perché con questa roba, tutti i tuoi concorrenti a Roma ti odieranno male. Perché? Perché li porterai via i clienti. Allora, se tu non vuoi scazzi con l'ordine che non devi assumere il chiamato, e non vuoi scazzi con i colleghi, e non vuoi far arrabbiare nessuno, non puoi fare comunicazione online. Non puoi farla. Quando vai a fare comunicazione online, devi partire dal presupposto che stai cercando di rubare clienti agli altri, ovviamente, di prenderli ad altri. Qualcuno non sarà d'accordo sul fatto che la fai, qualcuno ti dirà che non è così che si fa, e soprattutto i tuoi concorrenti non saranno felici neanche un po'. Vuoi un rapporto dolce e pacato con i tuoi concorrenti? Vai a lavorare per loro. Fatti pagare lo stipendio. Non puoi pensare di avere un bel rapporto con la concorrenza al 100%. Io ti porto l'esempio nostro, noi abbiamo dei nostri concorrenti con cui c'è un rapporto meraviglioso, siamo amici, ci vediamo a mangiare, esageriamo col Montenegro, facciamo quelle cose lì. Però poi online è una guerra. Online è una guerra. Offline ci possiamo andare a mangiare tutta la pizza che vogliamo, ma online è una guerra. Se il tuo collega dentista ti dice eh però Laura, in questo modo tu ti mostri più brava degli altri, e la risposta deve essere eh sì, perché tu non lo fai? Invece purtroppo nell'ambiente... Virgola non rompere le palle. Esatto, però purtroppo nell'ambiente dove ci sono gli ordini, c'è un po' quella cosa del non devo dar fastidio agli altri. Infatti Enrico, quando ci... Cioè Nicolo sa, quando ci contattano i dentisti, cioè lui deve prequalificarmeli molto bene prima di portarli da noi, perché tanto se non sei disposto a far sì che quello che poi vedrai al corso di formazione, di aggiornamento, ti guardi male perché tu gli stai pigliando i clienti, lascia perdere, vai a lavorare per lui. Vai a lavorare per lui, è l'unica soluzione.